Il progetto Vivi Internet al Sicuro è promosso dall'Accademia Italiana del Codice di Internet con Google, la Polizia Postale delle Comunicazioni e l'Associazione Altro Consumo. È sicuramente un'iniziativa meritoria per la finalità didattica e di formazione culturale delle nuove generazioni. In questa tappa cagliaritana abbiamo inteso avvicinare questa iniziativa ai giovani dando un taglio espressamente di tutela della loro individualità quali cittadini digitali e consumatori. L'auspicio è che il dibattito che si è svolto possa davvero indirizzarli nell'attività quotidiana che svolgono in rete rendendoli consapevoli sulle modalità con cui correttamente trattare i dati personali. In questa prospettiva è fondamentale anche il coinvolgimento degli operatori economici, degli incubatori e delle start-up che sicuramente già danno una grande importanza alla tutela del consumatore nella loro attività economica e che quindi possono offrire un riscontro fattuale di come anche dal lato dell'offerta dei servizi queste esigenze vengano attenzionate e particolarmente condivise sul piano sociale ed economico. Grazie